Celebra i suoi primi dieci anni, Pianeta Galileo, la manifestazione promossa dal Consiglio regionale della Toscana in collaborazione con la provincia di Lucca, che mira ad avvicinare i giovani e sensibilizzare studenti e cittadini al tema della scienza e della tecnica. La Sala Staffieri e la Galleria Ammannate a Palazzo Ducale ospitano Nice to Meet You, il grande laboratorio didattico scientifico allestito con numerosi prototipi e piccoli robot, apparecchiature per il risparmio energetico, giochi innovativi e quant'altro. Al laboratorio si aggiungono incontri e workshop per i visitatori e la mostra tematica sull'ambiente organizzata dal Laboratorio di Educazione Ambientale della provincia. Quest'anno gli istituti scolastici coinvolti nell'iniziativa sono 17. Ogni scuola ha la sua postazione e ognuna praticamente illustra ed espone agli studenti delle scuole secondarie di primo grado i prototipi scientifici che vengono realizzati nell'ambito della scuola. Quindi questa è un'importante occasione per gli studenti delle scuole medie, diciamo, delle secondarie di primo grado per conoscere qual è l'offerta formativa delle scuole superiori del territorio provinciale e proprio perché presso ogni stand delle varie scuole sono illustrate tutte le iniziative dal punto di vista scientifico che ogni scuola realizza. La mostra Nice to meet you rimarrà aperta a Palazzo Ducale fino a giovedì 16 gennaio.